Buongiorno Brichelli Buongiorno Brichellini ho un sonno maledetto sono le 7 e 18 minuti siamo già partiti perchè dobbiamo andare a camminare mi hanno svegliato alle 6 e mezza anzi era prima delle 6 e mezza perché ho detto a Manno svegliami pure alle 6 e mezza mi hanno svegliato tipo alle 6 e 20 così ascolta non ti avevo detto di svegliarmi alle 6 e mezza ti ho svegliato alle 6 e 20 perché avevo da fare ah vedi ciao mangia biscotti ciao ciao mangia biscotti Ludina ehi ti sei calmata un pochino che sei tutta agitata eh bacino mamma morì che buona cosa io ho chiesto i rai ban nuovi di Mau a Manno tornare a fare figo con i rai ban non è che vado a fare figo con i rai ban preparatevi perché adesso io e manuel ci esibiremo in un duetto in un duetto meraviglioso attenzione tocca a te tocca a me che va che fila di macchina che c'è no eros vai canta amore alietaci con la tua dolce voce dammi un bacino da bacino mamma dai dammi un bacino dai un bacino la duda ma abbiamo visto tutta la tua linguaggia sport donna a 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 l'ho mangiato guardate che spettacolo oddio ho perso manuel ho ritrovato manuel eccoci vedete quel puntino la verde vicino a quello blu aiuto alto alto ecco ecco ah 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 ciao 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 dentoni di mamma sia M siamo quasi arrivati sono cinque ore di cammino praticamente e siamo quasi arrivati alla fine della serita poi avremmo da fare almeno tre ore per la discesa c'è aria ma è un taglio di pietre, c'è il sole, ci sono le pucche Ale! Amore le pucche! I brighelli ce l'hanno fatta e siamo arrivati a Maiga Sega Maiga Sega Antina, il che significa che abbiamo fatto quanti chilometri? Un dici e qualcosa? Della macchina? E siamo in questa strada Sono lì, quattro, ok, mezzanotte più o meno, dovremmo arrivare giù Sì, vi faccio vedere la Maiga Sega, la baita Sega Antina Sega Antina Sega Antina Eccola, ce l'abbiamo fatta Arrivati Arrivati Arrivati! Che bello Mamma! Mamma! Cosa grighi? Nanna! Nono! Mamma! 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 Ehi, gritare! Cosa c'è da gritare? Mamma! 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 No, basta, però siamo in un posto meraviglioso, ma abbiamo trovato questa panchina, Vindira, amore quanto stanca sei, te amore di mamma, e il nanetto si è appena svegliato, abbiamo un problema? Sei andata nell'acqua di Vindira, sì, però... Grazie per la visione!